Ben ritrovati a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati, parliamo di calcio mercato, linee strategiche, attenzione alla pianificazione del mercato, attenzione alle scelte del mercato, perché ieri abbiamo avuto l'ennesima conferma dello sbaglio e dell'errore di programmazione del Milan nel lasciar partire Manuel Locatelli. Manuel Locatelli che ieri ha fatto una prestazione importante, ha dimostrato tutta la sua intelligenza tattica, la sua intelligenza tecnica, la sua capacità di essere sempre nel vivo del gioco e di fare entrambe le fasi molto bene, sia la fase difensiva che la fase offensiva. Quindi gli errori di valutazione nel calcio sono sempre accaduti, bisogna però porre grande attenzione a non in qualche modo pretendere dai giovani soprattutto un rendimento fin da subito importante, ma saperli aspettare, saperli fare crescere. Quindi a tal proposito mi voglio collegare con due giocatori che il Milan sta valutando di cedere in prestito titolo definitivo, molti tifosi li stanno attaccando e mi chiedo ma questo insegnamento di Locatelli, questa lezione di Locatelli ci deve servire, ci deve essere di in qualche modo insegnamento. Il Milan non deve assolutamente privarsi dei giovani, a meno di clamorose offerte, ma deve in qualche modo saperli aspettare, saperli valorizzare, in qualche modo farli crescere, che sia il Milan o che sia anche da qualche altra parte, ma sempre mantenendo il controllo del calciatore. Mi riferisco a Aughe, che è un giocatore importante, che in una piazza eventualmente, proprio come Sassuolo, dato in prestito potrebbe esaltarsi, potrebbe dimostrare tutte le sue qualità, ma anche a Raffaele Au. Raffaele Au che ha delle qualità importanti, che deve crescere esclusivamente di mentalità, perché è un giocatore ancora troppo discontinuo, ma le qualità sia di Aughe ma che di Raffaele Au sono davvero importanti. Così vale per altri calciatori come Gabby, come Pobega, il Milan deve avere la pazienza, la capacità di saperli aspettare. Non solamente per mantenerli in rosa, ma per valorizzarli anche altrove e magari cedere offerte a cifre molto più alte rispetto alle cifre, ad esempio di Locatelli, che è stato ceduto solo per 12 milioni di euro. Attenzione quindi alle scelte, attenzione al mercato, attenzione ai giovani, perché i giovani vanno sicuramente aspettati, vanno valorizzati e va creato un ambiente ad hoc dove permettergli di crescere senza pressioni e soprattutto in un percorso di crescita che sia il più in linea con le loro capacità. Quindi in base ai ruoli, sull'esterno è vero, siamo abbastanza coperti e quindi tenere in rosa Aughe non avrebbe senso, quindi vorrebbe dire, la soluzione ottimale sarebbe mandarlo in prestito, valorizzarlo. Così come un giocatore come Raffaele Au che se dovesse arrivare Oliver Giroux, se dovesse arrivare a un'altra punta oltre i brevi, ci potrebbe essere ovviamente chiuso. Quindi la scelta del Milan deve essere mantenere i giovani in rosa, di qualità, quando non trovano spazio mandarli in prestito e poi valutarli dopo l'esperienza in prestito, se cederli e quindi non avendo più gli impianti o in qualche modo farli rientrare alla base o addirittura monetizzare ma con cifre molto più elevate. Basti vedere il caso Andresilva che il Milan non ha saputo aspettare, è andato all'Aintracht e ha fatto molto bene, forse va al Manchester City, basta vedere Locatelli che il Milan ha lasciato andare troppo velocemente, basta vedere Pessina. Sono tanti gli errori di programmazione che il Milan ha fatto negli ultimi anni, quindi attenzione perché potevamo avere già la terza punta che era Andresilva, potevamo avere un citronampista di qualità che era Locatelli, potevamo avere Pessina come trequartista. Ormai gli errori sono fatti, questo non deve essere una predica nella dirigenza rossonera ma deve essere un insegnamento per il mondo Milan. Aspettiamo i giovani perché il Milan riesce sempre ad arrivare a giocatori di qualità però serve attendere, serve aspettarli. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere un mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.